Don Davide Banzato, giovane sacerdote, assistente spirituale della comunità Nuovi Orizzonti, la comunità fondata da Chiara Amirante, sei stato tra i missionari della misericordia nominato da Papa Francesco al Giubileo della Misericordia nel 2016, collabori con diverse testate, diverse radio, curi diverse rubriche religiose, sei stato in missione in tanti paesi del mondo. Tu come ti presenteresti? Ma come un giovane sacerdote che cerca di portare la gioia di Cristo risolto a tutti coloro che incontra. Allora partiamo dall'inizio, dalla tua esperienza vocazionale che è stata abbastanza travagliata, sei entrato in seminario molto giovane ma la tua permanenza lì non è stata diciamo tranquilla, addirittura sei uscito dal seminario dicendo nella vita tutto ma mai farò il prete. Sì, diciamo che ognuno ha la sua storia, naturalmente sono diverse, c'è chi non vede l'ora diventare sacerdote, nel caso mio in parte c'è stato anche questo perché fin da bambino ho percepito dei segni vocazionali, tanto da interrogarmi, papà e mamma dicevano che ero frizzante come il vino perché ero molto vivace, anche a catechismo povere maestre, ho fatto impazzire le catechiste, le maestre, però mi interrogavo subito da bambino sul senso della vita, mi dicevo già che io avrei voluto vivere una vita in cui girarmi un giorno indietro e dire beh l'ho spesa per qualcosa che valeva veramente la pena e questo fin da bambino, piccolo piccolo, per cui quando ho iniziato a vedere il mio coetaneo, chiedichetto che è entrato in seminario, ho iniziato a fare i campi vocazionali nel seminario di Padova, sono rimasto molto colpito e attratto anche per discernere una vocazione, mi era stato presentato così il seminario come un tempo, quello minore, in cui si poteva discegliere nella propria vocazione ad ampio raggio, poi è anche vero che gli incontri che facevano erano talmente belli e entusiasmanti che otto campi da calcio, un campo da pallavolo, uno da pallamano, si guardava il cinema, si pregava poco in questi incontri, dentro di me ho detto sai che... Ti sembrava perfetto. Era paese dei balocchi per me, per cui io sono entrato in seminario e poi molto spinto dietro un pallone da calcio. Entrato lì la musica è cambiata, all'epoca quando sono entrato io erano quasi 120 ragazzi in seminario minore, per cui dalle medie alle superiori. Io ero in terza media e così mi sono trovato tra i 13 e i 14 anni a vivere all'improvviso uno sradicamento della famiglia. Ho ricevuto cose belle nel seminario minore, ma anche delle situazioni che mi hanno ferito. Le realtà sono fatte dalle persone e le persone possono fare la differenza sempre, nel bene o nel male. Santi sacerdoti e suori mi hanno aiutato a crescere e qualcun altro che magari sta vivendo un momento difficile mi ha in qualche modo ferito. Soprattutto c'era un modello educativo non più al passo con i tempi. Provo a spiegarlo. A parte le punizioni molto dure che dovrei raccontare, ma al di là di questo il fatto che tu vedessi la tua famiglia, io ho sei persone nella mia famiglia, molto affietate, e all'improvviso veni sradicato, cioè non potevo telefonare se non con un permesso che mi veniva negato. Ricordiamo che avevi quanti anni? 14 anni, 13 anni. Quindi eri piccolissimi. Non li vedevo se non ogni 15 giorni, di cui una volta andando a casa io, ma riuscivo a stare sì e no il sabato pomeriggio e la domenica mattina, dove mi era chiesto il servizio poi in parrocchia, ero già visto come il futuro sacerdote. Per cui anche una pressione psicologica che per un bambino non era per me almeno sopportabile. E poi quando venivano i miei genitori a trovarmi, io li trattavo male, come tanti altri bambini. Non avevo un luogo comune, cioè luoghi singoli in cui poterli incontrare, ero sempre in luoghi comuni, una camerata con 30 ragazzi, dormivamo con piccoli box, neanche con camere. Per cui non avevo mai la possibilità di poter parlare con papà e mamma da solo. E li trattavo male quasi perché era il mio modo per guidare portatemi via da qui, ho bisogno di aiuto. Invece loro lo recepivano come il fatto che non volessi stare con loro e andavano via. Ci siamo chiariti nel tempo con i miei genitori, però per dire quei due o tre anni che sono stati veramente difficili, in cui due o tre anni c'è stato anche però l'evento che ha cambiato la mia vita. Perché proprio in un'estate, col seminario eravamo a Borca di Cadore, e in quell'estate del 95 io ho incontrato Chiara Mirante. Tu dicevi prima che le persone possono fare la differenza. La differenza, assolutamente. Direi che questo incontro per te ha fatto la differenza, perché tu venivi appunto da questo periodo complicato in cui addirittura avevi giurato mai fare il prete nella vita. Questa è ancora prima di uscire dal seminario. Ero ancora in seminario in quell'estate. Io volevo uscire dal seminario. Ero già arrabbiato con la chiesa in qualche modo, ma stavo ancora dentro, ero in crisi. E quella sera, era una delle poche sere libere che avevamo, cioè d'estate, nel seminario estivo, noi potevamo andare a San Vito in Cadore a prendere un gelato, una volta ogni settimana, due sere a settimana. Quella sera il nostro assistente ci dice «Questa sera viene a parlare da noi una suora laica». E io «No». E tu non eri contento? No, stasera c'è il gelato. Avresti preferito il gelato. Esatto. Poi ho protestato, perché poi ho sempre avuto un caratterino un po' così. E ci ha detto «Guarda, dura poco, dopodiché facciamo in tempo». È arrivata questa ragazza, che non era una sola laica, era una consacrata laica, Chiara Mirante, aveva già fondato Nuove Orizzonti, già era andata in strada negli anni 90 dalla Stazione Termini, a Dublino, aveva già aperto la prima comunità con i ragazzi di strada, la sette sataniche, droga, alcol, prostituzione, e ci racconta la sua storia. Io devo dire che sono rimasto folgorato. Eravamo in 30 e quello che mi ha stupito è stato innanzitutto il suo sguardo. Ho visto nei suoi occhi una luce che non avevo mai visto, una gioia che non capivo da dove venisse. E poi mi chiedevo «Ma cosa c'è di diverso tra me e lei?» È una ragazza. Cioè, io sono un ragazzino, un bambino, ho 14 anni, ma questa ragazza cosa ha di diverso? Io voglio la stessa gioia che ha lei. E poi mi parlava di Dio e del Vangelo in un modo che non ho mai sentito. Soprattutto mi domandavo «Ma io sono un seminarista, dovrei parlare io agli altri di Dio così?» E invece io non ne potevo più. Di preti, suore, frati, rosari, messe. C'è qualcosa che non quadra. Le scrissi un biglietto, abbiamo avuto un contatto, e ho sentito proprio nel mio cuore che dovevo lasciare tutto e seguire Novi Orizzonti, seguire Chiara, anche se non sapevo cosa volesse dire. Lei non mi ha trattato da bambino. Lei mi ha detto «Quando vorrai c'è un posto per te a Novi Orizzonti». La porta è sempre aperta, però mi ha spronato a rimanere in seminario, a starci in modo diverso, a vivere veramente il Vangelo e a provare a fare un percorso. Io ci ho provato ed è stato un primo anno molto bello, in cui ci siamo anche iscritti. Si vede che ero arrivato alla saturazione alla fine di quell'anno, poi sono uscito dal seminario sbattendo la porta e guardando veramente il cielo dicendo «Dio, d'ora in poi se tu esisti, io farò il contrario di quello che mi hanno insegnato. Voglio vedere se tu ci sei davvero. Se starò bene lo stesso, sono io il Dio della mia vita. Dico io cosa è bene e cosa è male. Se tu invece ci fossi, tornerò indietro se mi passi e ammetto questo. E poi la seconda promessa era «Tutto nella vita farò, ma mai il prete». E così sono uscito dal seminario e ho iniziato un periodo di due anni in cui ho vissuto come tutti gli altri ragazzi, nel fai ciò che vuoi, come i ragazzi di oggi. Grazie a Dio, dico grazie all'educazione della mia famiglia, in tanti bivi io mi sono fermato di fronte alle sostanze, di fronte a certe situazioni molto pericolose di certe feste, ma sono stato veramente al limite, molto al limite. Ho avuto tutte le situazioni davanti a me fino all'ultimo. Una vocina mi ha salvato, però pur non avendo fatto cose gravissime, se vogliamo chiamarle così, cosa ho sperimentato in quei due anni? Un buio. Io veramente ho sperimentato quello che dice San Paolo. Il frutto del peccato è la morte, la morte del cuore, dell'anima. Io ero con tantissimi ragazzi, amici, ragazze ed ero solo. Avrei avuto tutti i motivi per essere felice e mi sentivo morto. Io ho pensato anche alla morte in quei due anni, non capivo il senso di vivere. E tutto perché avevo detto di no a Dio. Ecco, sono stati due anni veramente d'inferno e a un certo punto mi ricordo una notte, è stata una festa in cui mi sono comportato anche molto male, per dirvi uno dei miei migliori amici dopo quella sera è finito a vivere in strada, drogandosi, l'ho ritrovato tanti anni dopo in comunità. In quella notte io sono tornato a casa e la mattina dopo ho svegliato molto tardi, perché ero un po' così stordito. Mentre andavo a prendere delle cose giù in cantina, ho guardato proprio un attimo verso l'alto e ho detto, ho fatto solamente questo pensiero. Gesù, hai vinto tu, ho bisogno di te, aiutami. Ed è stato veramente un momento forte, perché ho sentito che la mia preghiera era ascoltata, anche se io non pregavo più, non andavo più in chiesa, non avevo più nessun tipo di frequentazione. E incredibilmente, Chiara Mirante le chiama Dio Incidenze, un sacerdote viceparroco mi ha presentato una ragazza, una psicologa, che conosceva Nuo Orizzonti, stava studiando psicologia, e mi ha invitato a tornare in comunità a Roma. Io vivevo a Padova. Appena lei mi ha fatto questo invito, anzi, lei mi ha detto, ma tu sei Davide, quello che andava in strada, conosceva Chiara, per dirvi quanto ero indurito. Io l'ho guardato, ho fatto un passo indietro e ho detto, quel Davide non esiste più. E lei ha capito che era successo qualcosa in quei due anni. E lei mi ha detto, ma perché non vieni in comunità? Ogni mese c'è un ritiro spirituale che Chiara tiene, che la comunità vive. E quando mi ha fatto questo invito, io ho sentito un fuoco dalla punta dei piedi dell'ultimo capello. E niente, avevo 17 anni, e sono partito e sono andato a Novo Rizzonti, in comunità, contro il parere della mia famiglia, viaggiando di notte, dormendo sul portabagagli, in un treno economico notturno, con questi ragazzi che ho incontrato in comunità, che mi hanno stupito perché erano tatuati, segnati dalla vita, dalla strada, dal carcere, ma cosa avevano? Erano in ginocchio davanti all'eucalistia. Si abbracciavano e si volevano veramente bene. E poi avevano una luce negli occhi, che era la stessa luce che avevo visto negli occhi di Chiara. Questo mi ha colpito. Cioè, i ragazzi che vivono dalla storia d'inferno, che avevano la stessa luce di gioia e di pienezza che aveva Chiara. E allora lì sono crollato, ho chiesto a Chiara qual è il segreto per questa gioia. Io la voglio. E lei mi disse che il segreto era il Vangelo. Io l'ho guardato e ho detto, se il Vangelo, ma tu non sai quanti Vangeli mi sono sorbito io, non mi hanno cambiato niente. Lei mi ha guardato, un po' severa, mi ha detto, guarda Davide, forse li hai ascoltati o sentiti, poche volte ascoltati i Vangeli, ma sicuramente non li hai vissuti. Il Vangelo non è un libro come gli altri che metti il suo comodino, ma ti cambia la vita nella misura in cui provi a viverlo. E le promesse di gioia, di pienezza, di pace, di comunione, a chi mi ama io mi manifesterò, dice Gesù. Si realizzano nella misura in cui le vivi. E io così ho iniziato, tornando a Padova, ad aprire il Vangelo tutti i giorni, a caso, perché all'epoca non sapevo che c'era il Vangelo del giorno, adesso ho studiato qualcosa, lo so, dicevo, Spirito Santo, dammi la parola di luce per oggi. Aprivo, e poi la meditavo, la sottolineavo, e cercavo l'impegno concreto per viverla, come in comunità viene fatto tutte le mattine, per tutti i ragazzi, di tutte. Poi ce lo racconterai. Intanto hai risposto già a tutte le mie domande. Da qui è cambiata la mia vita. Che avevo preparato fino a questo momento, però ne ho ancora altre. Prima però arriviamo ad una data importante per te, che è il 23 settembre 2006, giorno in cui sei stato ordinato sacerdote. Tra l'altro il 23 settembre è anche una data particolare, no? Assolutamente. C'è un legame con Padre Pio, naturalmente forte, che non ho scelto, perché mi è stata data quella data. E quando l'ho ricevuta ho proprio sentito che c'era anche lì un addioincidenza, come sempre ripetiamo noi. Però tra questa data e la mia conversione c'è stato un percorso particolare. Forse questa è una caratteristica non di tutte le storie vocazionali, nel senso che io dopo la mia conversione, quando ho iniziato a provare a vivere l'Evangelo, ho sentito addirittura un impegno a lasciare tutto e sono andato a vivere in Comunità Nuovo Rizzonti, che è una comunità, oggi anche di diritto pontificio, approvata dalla Santa Sede, ma principalmente fatta di laici, famiglie, consacrati, che fanno povertà, castità, obbedienza e gioia come promesse. E non c'erano i sacerdoti quando c'ero io. E questa cosa che ho iniziato a sentire mi colpiva, perché oltretutto venivo da tre anni di fidanzamento, non pensavo più al sacerdozio, anzi ho detto Gesù, avevo giurato di allontanarmi da te, hai vinto la scommessa, sono tornato, però tutto, ma mai prete, va bene. Ma mai prete ti era sempre rimasta? Mi era rimasto, sì, mi era rimasto perché temevo che il sacerdozio mi avrebbe tolto qualcosa, temevo che non sarei stato felice, che non sarei stato in grado di vivere gli impegni anche del sacerdote e poi in qualche modo c'era proprio una barriera interiore, un blocco. Ecco, quando ho sentito, per dirvi, questa spinta, io non so spiegarla, una spinta come l'innamoramento per una persona, era in cappellina, io mi sono alzato, sono corso nella camera di Chiara, ho bussato una sera, lei mi ha aperto, mi dice, Davide, che succede perché non suonavo, non bussavo mai alle 23 di sera? Mi dice, Chiara, che era successa una cosa incredibile, ma cosa è successo? Sento che Dio vuole che divento sacerdote e lei mi ha detto, ma è una cosa bellissima questa. Io, no, piangevo di rotto, no, io non voglio, è tremendo. Ecco, e lei mi ha tranquillizzato dicendo, Davide, Dio è gioia, è felicità. Se ti chiedesse questo, stai tranquillo che è per la tua felicità. Fidati di Dio. Se non sei felice, sei prete, non te lo chiederà. Adesso puoi dire che hai fatto bene a fidarti. Allora, io ho vissuto sicuramente tanti anni anche nel seminario, affidandomi, in cui ero tormentato. Io fino al giorno del sacerdozio, dovevo la verità che ho pianto, mi sentivo in crisi. L'unico esempio che riesco a dare è l'immagine di uno che deve fare un salto nel vuoto e fidarsi di Dio. Però ho percepito che uno si può far santo in qualsiasi via, nel matrimonio, da sposato, laico nel mondo, in una comunità, o da sacerdote, o da religioso. Ma Dio a me ha chiesto questo con talmente grande chiarezza che non potevo dire di no. E io mi sono semplicemente fidato. Poi Maria, la Madonna, ha lavorato nel mio cuore per arrivare a togliere ogni ostacolo e fidarmi di Dio, passare da non la mia, ma la tua volontà. E posso dire sì che dal 23 settembre, anche con l'aiuto di Padre Pio in questa data speciale in cui ho sentito un legame con lui forte che ho coltivato sempre, è nata una gioia che non è mai nata via. Anche se le difficoltà ci sono, ci sono state, oggi sono 12 anni, non è meglio sacerdozio, però le difficoltà con Gesù le ho sempre affrontate, sempre vinte. E poi non esiste una vita o una via che non abbia delle spine, non c'è una strada che non sia un po' in salita, anzi, la prova ci dà la possibilità di dimostrare chi vogliamo essere e scegliere veramente di essere nell'amore. Da quando hai 18 anni vivi stabilmente nella città della Cielo a Frosinone che è appunto la sede centrale della comunità dove svolgete i vostri servizi di recupero per situazioni di disagio come tossicodipendenze, alcolismo, prostituzione e devianze e anche i vostri percorsi spirituali. Andando sul sito della comunità Nuovi Orizzonti e cliccando sulla sezione Missione leggiamo La nostra missione è andare ovunque ci siano fratelli e sorelle che ancora non hanno incontrato l'amore di Dio portare la gioia a chi ha perso la speranza di schiudere nuovi orizzonti a chi vive situazioni di profondo disagio. Voi questo lo fate proprio praticamente andando dovunque nelle stazioni nelle metropolitane nelle discoteche nelle spiagge ovunque percepiate ci sia la presenza di gente che ha smarrito la sua strada. Sì, diciamo che Chiara ha iniziato dalla strada poi subito i primi ragazzi hanno voluto tornare nei propri quartieri borgate all'inizio e scuole per annunciare ad altri che è possibile uscire da questi inferni sono entrati i missionari loro i ragazzi di strada prima da subito con le prime missioni fatte a Roma a Riccione nelle discoteche nelle scuole e poi si è strutturato un percorso oggi sono 216 centri di prevenzione formazione evangelizzazione ascolto accoglienza 5 le cittadelle cielo Italia Bosnia e Brasile ci sono case che vanno dall'accoglienza per i bambini a attività con le mille quattro echippe di servizio in cui andiamo negli ospedali a dare un conforto un sorriso nel carcere nelle scuole a fare prevenzione veramente ad ampio raggio e oltretutto oggi oggi facciamo 25 anni di Nuovi Rizzonti è cambiata anche la realtà del mondo giovanile e anche della società per cui i progetti sono molto variegati non c'è più il giovane di Borgata a rischio ci sono anche i giovani di quartieri benestanti dunque soprattutto il presidio scolastico andare a fare progetti di prevenzione nelle scuole da quest'anno ne partiamo con tre progetti importantissimi che sono anche coprodotti confinanziati con diverse associazioni come l'impresa sociale con i bambini o la fondazione d'ora finita con cui andiamo in 12 scuole per 4 anni scusate 12 regioni 36 istituti per 4 anni 10 regioni per altri 4 anni un anno e mezzo sulla ludopatia e cosa facciamo? cerchiamo di far scoprire ai giovani i loro talenti riapproparsi del proprio territorio mettere la conoscenza dei pericoli dei rischi che ci sono e poi di aiutarli in questo cammino capite oltretutto se i progetti durano 4 anni significa prendere un giovane dalla prima superiore alla quarta superiore dunque un percorso lungo che facciamo con loro e poi ovunque c'è bisogno di annunciare l'amore di Dio il bisogno di amare ed essere amati è il punto chiave di ogni persona per cui può essere il ragazzo che è finito in strada come il manager affermato che comunque non avendo l'amore di Dio nel proprio cuore muore nel proprio cuore e c'è questo percorso che Chiara Milante ha ideato che si chiama Arte di amare un corso di conoscenza di guarigione del cuore che ogni mese noi facciamo e vengono dalle 800-1000 persone solo nella cittadella Cielo di Frosinone che è una cittadella centrale e poi anche in Italia con altri circa 200 formatori e circa 90 gruppi di condivisione in cui si approfondiscono questi temi si fa proprio un percorso di guarigione del cuore parliamo dei giovani che ai quali rivolgete un'attenzione particolare sul vostro ultimo report sul disagio giovanile emerge che ci sono sempre più forme di disagio tra i giovani spesso anche correlate tra di loro disagio familiare disagio sociale a questo contribuisce anche l'aumento del consumo delle droghe e il ritorno anche a droghe che sembravano in qualche modo superate pensiamo appunto all'eroina alla facilità con la quale si può acquistare e anche le cronache degli ultimi giorni tristemente ci riportano appunto all'attenzione su questo tema voi che alternativa offrite beh l'alternativa innanzitutto è proprio di andare incontro ai giovani come abbiamo detto là dove sono noi li cerchiamo andiamo proprio fino ai luoghi di aggregazione di notte nelle strade nelle discoteche all'isola d'Elba a Gallipoli a Riccione dovunque si trovano agiamo tutto l'anno con missioni specifiche o missioni permanenti dopodiché partiamo dall'ascolto ascolto vero e profondo dei giovani dall'ascolto si aprono e allora inizia un percorso a volte di prevenzione a volte proprio di aiuto anche collaborazione in rete con altre associazioni e spesso di accoglienza i problemi sono diversissimi hai citato il report annuale che abbiamo pubblicato nel sito facciamo anche una piccola sintesi di quello che abbiamo fatto in un anno ma mettiamo anche in risalto alcune statistiche sono pesanti perché già il rapporto Caritas 2016 aveva detto che i nuovi poveri sono i giovani poveri di sogni di prospettive la mancanza di lavoro ma anche di punti di riferimento di sostegno oltre a una povertà materiale dopodiché l'ISTAT o il Dipartimento per le Tosco Dipendenze dello Stato ha pubblicato nel 2017 diversi dati confermati in questi anni dove appunto vediamo che i soggetti dipendenti sono polidipendenti dunque non c'è solo una dipendenza alcol chiama trasgressione droga ludopatia noressia bulimia sono tutte dipendenze che si sommano internet addiction cioè molti che entrano nella rete e diventano dipendenti e non sono da sottolotare di meno rispetto ad altre dipendenze dopodiché c'è un aumento della eroina che è tornata un aumento e un cambio delle droghe che sono sintetiche e dunque danno soggetti di doppia diagnosi oltre alla dipendenza dalla droga c'è anche un danno permanente irreparabile psichiatrico dunque una dipendenza è un bisogno d'aiuto farmacologico e con una psichiatra che lo segua poi c'è un aumento tra criminalità e della droga nel mondo giovanile questa perché uno inizia a prenderla poi inizia magari a spacciarla ed entra in circoli insomma il quadro è cupo però posso anche dire questo che abbiamo visto tante vite rinascere tante storie cambiare come aprendo un piccolo varco nel cuore aprendo un piccolo varco nel cuore è come dire non c'è notte più buia o nera che non possa essere sconfitta da una piccola luce basta accendere una piccola luce siamo arrivati alla fine però una domanda con una risposta secchissima al volo cosa rispondi a chi pensa che invece nella vita non si possa cambiare il cambiamento non è possibile ma è un'illusione questa e purtroppo può arrivare un momento in cui vedi tutto nero e pensi che ci sia un punto nella tua vita e un muro fisso ma Gesù è arrivato a dare quel punto e virgola basta una piccola virgola e si riapria il discorso dunque non c'è punto più basso che non possa essere un punto per saltare e andare ancora più in alto anzi io penso che tutto concorra al bene per coloro che amano Dio molte esperienze di inferno oggi grazie a ragazzi rinati ma penso anche alla mia possono diventare testimonianza per altri e strumento di rinascita per tanti altri grazie mille Don Davide grazie per essere stato con noi grazie a tutti 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 grazie a tutti